vita 4 ravi buongiorno buongiorno ravi detto che il guidatore di asini il creatore è l'asino e l'ego che cos'è l'anima in questa situazione l'anima è una parte di dio in alto e riempie il nostro desiderio il desiderio di ricevere solo nello stato in cui è il desiderio di ricevere nello scopo di ricevere l'anima non è non è vista è in accordo a questo quando noi vogliamo scoprire il desiderio di dare e aderire alla nostra anima al creatore di per imitare creatore allora l'anima si mostra sempre di più la sua azione e questo è come noi la scopriamo noi la scopriamo in noi